12 migranti molto provati, molto sofferenti, bacini rotti, braccia, gambe, qualche contusione alla nuca, alla fronte, ustioni perché raccontano questi 11 migranti di uno scoppio della nave prima di affondare e il ricordo di queste 5-6 giubbotti che si allontanavano dalla zona dove loro si erano ancorati accanto ai resti della barca a vela su cui viaggiavano.